Ehi, cosso, saluti a te! Volevamo avere notizie di quei soldi, questa ricevuta che dovresti aver ricevuto. Cosso, ma sai che mi spiace? Guarda, anche dirtelo, ma nonostante tutto mi sto quasi affezionando. E sono anche un po' preoccupato perché, è vero amore, non abbiamo notizie, e fatti vivo, e non sappiamo più niente di te. Eh, siamo un po' preoccupati. Quello che conta nella vita sono soprattutto i rapporti umani che tu hai avuto con gli altri, quello conta. L'unica cosa che conta alla fine, per cui uno quando fa il bilancio può essere, può dire è andata bene, è andata male. Bravo, amore! Saluti a coso! Un po' meglio, amore! Bravo, amore! Un po' meglio, amore! Un po' meglio, amore! Un po' meglio, amore! Un po' meglio, amore! Un po' meglio!